E' andata di scena ieri la terza serata del Medita Festival, la manifestazione che unisce i linguaggi del pop e dell'orchestra della Magna Grecia. A esibirsi sul palco montato sulla rotonda del lungomare è stata l'orchestra Mancina, formazione che ha dato vita a evoluzioni musicali e trovate divertenti. Stasera chiuderà l'edizione 2022 la cantautrice Malika Yan, che riceverà il premio Due Mari istituito dalla BCC di San Marzano. Siamo giunti alla terza serata del Medita Festival 2022, una terza serata aperta al pubblico, aperta a tutta la città, aperta a tutto il territorio, perché è una serata di divertissement con l'orchestra Mancina. Pensate a questa orchestra che già qualche anno fa ha avuto un successo facendo un tour nazionale insieme a Pio Amedeo ed è diventato ormai un must del divertimento serale e lo facciamo il sabato sera, il 10 settembre, prima di concludere domani con la straordinaria voce di Malika Yan. Beh, insomma, che dire, il cuore batte, batte ogni sera e batte in maniera diversa. Il Medita Festival è capace di interpretare e soprattutto di svilupparsi. Terza edizione diventano quattro serate e che ne sappiamo noi l'anno prossimo e fra due anni cosa potrà diventare. Sicuramente quello che vogliamo diventare e che vogliamo essere costantemente è il Festival del Mediterraneo e Taranto è il cuore del Mediterraneo. Beh, una serata regalata alla città e quindi ringrazio il maestro Piero Romano l'orchestra della Magna Grecia che ha voluto insieme al comune di Taranto regalare questa bellissima emozione stasera di questa piazza senza sedie e quindi insomma si balla, si canta, ci si diverte insieme alla fantastica orchestra Mancina, quindi insomma da un'orchestra piena come l'orchestra della Magna Grecia si passa a un'orchestra un po' più piccola ma insomma piena di energia. Una bella occasione per stare insieme, per stare tutti insieme, per dare insomma a chi ha voglia di passeggiare, di passare da questa meravigliosa rotonda l'occasione di ascoltare musica bella, di musicisti del nostro territorio e questo va sottolineato quindi insomma anche una bella occasione per dare a dei musicisti di altissimo livello la possibilità di suonare una piazza così bella inserita in un festival, il Medita Festival, in cui ci sono artisti di livello nazionale e internazionale direi, insomma ci apprestiamo poi a chiudere il Medita Festival con una serata elegantissima che è quella di Malika Ian, un festival vario, vario in cui insomma il filo conduttore al di là dell'orchestra Mancina è stata l'orchestra della Magna Grecia, quindi l'orchestra in generale, il filo conduttore di queste serate, il filo conduttore anche il maestro Viero Romano perché questo va sottolineato, ma il filo conduttore soprattutto la bellezza di questa città, la bellezza dei Tarantini che sono sempre appassionati e vivono tutto con grande partecipazione, rispondono sempre alla grande, in fondo basta fare la domanda giusta e direi che il Medita è la domanda giusta. Allora noi siamo l'orchestra Mancina, come tutti ci chiedono, insomma siamo Mancini ma non siamo Mancini, nel senso che dal 96 abbiamo scelto questo nome perché siamo tutti Mancini, mangiamo, scriviamo con la sinistra, poi in realtà suoniamo con la destra, però ci è piaciuto questo nome, l'abbiamo tenuto negli anni, quindi è rimasto dal 96 ad oggi insomma la nostra icona. Grazie a tutti.